ecco qua dal peso mi si rotta la canaria comunque volevo mostrarvi questi due deflettori che li sto sperimentando oggi dovete vedere non so se si vede cambiando il deflettore girando arriva la torrente da questa parte cambiandolo di qua la corrente è in centro in quest'altro modo insomma si può regolare la corrente dove si vuole vedete che effetti che dà però tutto questo si può si può anche regolare qui intanto vi faccio vedere si può regolare anche con un sasso esempio andiamo a prendere un sasso così non voglio vedere adesso la corrente di lato ma se noi mettiamo un sasso così cambia tutto il flusso un'altra volta insomma si può giocare come si vuole con Dragonfly l'importante è cavare voglio vedere grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.